E' sembrato che il Cagliari oggi abbia giocato la partita più consapevole, siete forse più consapevoli della vostra forza, un primato in classifica consolidato, una partita giocata per un'ora, giocata benissimo. Sì, è normale che cresciamo gara dopo gara, le vittorie aiutano e credo che la vittoria di Spezzi in quelle condizioni abbia dato grande forza alla squadra, grande consapevolezza che già si era vista nelle altre precedenti gare, però forse Spezzi è stato un po' lo spartiacque, proprio per la difficoltà dell'impegno e per le defezioni che comunque avevamo. E quindi oggi si è vista una squadra padrona del campo per un'ora, dopo abbiamo peccato forse di leggerezza, di leziosità, abbiamo permesso all'Ascoli di creare tre occasioni nitide, è stato bravissimo Storari in un paio di occasioni, nella terza Giorgi l'ha tirata altissima, sarebbe stato un peccato riaprire una gara che era saldamente nelle nostre mani. Ora ci godiamo il primato in classifica, è la prossima partita contro il Brescia, già state pensando a come affrontarla? Sì, adesso dammi 12 ore di relax, giusto il tempo di godermi questa vittoria insieme ai ragazzi e poi da domani mattina inizieremo a pensare alla prossima gara, che non sarà assolutamente semplice, contro una squadra che gioca un bel calcio, molto giovane, squadra pimpante, un ottimo tecnico, quindi dovremmo prepararla nel miglior modo possibile. Un'ultima battuta su questo fiocco che state portando oggi, cosa rappresenta? La settimana contro la violenza sulle donne, naturalmente bisogna avere massimo rispetto per il sesso femminile, purtroppo sono tantissime le donne che subiscono violenza dai partner, dagli uomini e quindi credo che ci debba essere grande solidarietà e massimo rispetto, ripeto, per le donne. È sembrata una partita molto solida, a parte di tutta la squadra, una squadra compatta e finalmente consapevole dei propri mezzi, più di altre volte. Sì, io penso che non è stata l'unica, a Spezia già avevamo fatto una grandissima partita sotto questo punto di vista, siamo cresciuti molto, era quello che ci aspettavamo, c'è stata la svolta secondo me dopo Perugia, abbiamo trovato veramente delle consapevolezze e delle motivazioni forti, anche stasera abbiamo dimostrato con un ampio risultato di giocare molto bene, anche se poi magari abbiamo concesso qualcosa, ma ci sta, siamo solo la quattordicesima giornata e avremo modo ancora di crescere veramente in maniera devastante secondo me. Gio, hai giocato una partita fantastica, forse la migliore da quando sei a Cagliari, sei d'accordo? No, non lo so, dite questo ogni partita, quindi penso solo che comunque io e tanto la mia squadra abbiamo vinto e questo è più importante. Ora ci godiamo il primato in classifica? Bello, bello perché comunque stanno correndo sempre dietro a noi e noi continuiamo sempre a vincere e a fare comunque prestazione sempre meglio, quindi è bello così, dobbiamo comunque cercare di continuare con questa mentalità, con questa aggressività e metteremo sempre difficoltà agli altri. L'altro giorno hai incontrato Gigi Riva che ti ha detto di segnare un gol, è vero? E oggi hai segnato? L'ho pure scherzato con lui, l'ho abbracciato, l'ho detto adesso segno sicuro perché è sicuro appena tocca Gigi e per forza deve segnare. E così è stato? Così è stato. Gigi Riva che ti ha detto di segnare un gol, è vero? Gigi Riva che ti ha detto di segnare un gol, è vero? Gigi Riva che ti ha detto di segnare un gol, è vero? Gigi Riva che ti ha detto di segnare un gol, è vero? Gigi Riva che ti ha detto di segnare un gol, è vero?